E di almeno 44 morti e più di 150 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, il bilancio dell'incidente è avvenuto durante un raduno religioso di ebrei ortodossi sul Monte Meron, nel nord di Israele. A causare il disastro, la calca che si è creata all'uscita da uno dei concerti in programma per celebrare la tradizionale festa di Lagba Omer. Stando a molteplici testimonianze e ad alcuni video pubblicati sui social, centinaia di persone si sono accalcate in un passaggio molto stretto, simile a un tunnel. Alcune di loro sono scivolate sui gradini in metallo, facendone cadere altre, che hanno finito per ammassarsi, anche a causa della tardiva rimozione di alcune transenne alla fine del passaggio. All'evento, stando alla polizia, erano presenti circa 100.000 persone, un numero secondo altre fonti, almeno 4 volte superiore alla capienza del luogo in cui si è svolto l'evento. Continuavano ad arrivare altre persone, sempre di più, da ogni lato, e la polizia non le lasciava uscire. Hanno cominciato ad accalcarsi e ad essere schiacciate l'una sull'altra. La polizia non ha aperto il passaggio finché non è crollato tutto, racconta questo testimone. Sul posto sono arrivati sei elicotteri e decine di ambulanze per evacuare i feriti e trasportarli negli ospedali della zona. Il raduno sul Monte Meron era il primo grande evento dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid, reso possibile dal successo della campagna di vaccinazione nel paese.